benvenuti preparati ad attaccare seleziona i tuoi ogni soldato serve una causa e se facessi una torretta che spara torrette più piccole salve 5 4 3 2 1 l'attacco è iniziato mi serve un cerotto come se non fosse mai successo generazione attivata grazie ricevuto procede obiettivo a conquistato scortate il carico carico in movimento sono già al prossimo livello ci so ancora fare carico india mike il visore tattico si sta caricando la mia ultra si sta caricando il carico ha raggiunto il città piccoli delinquenti via dal mio territorio la mia ultra è quasi brutta la mia ultra è quasi brutta la mia ultra si sta caricando la mia ultra si sta caricando la mia ultra è quasi brutta la mia ultra si sta caricando 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 Grazie a tutti.